da domenica le Marche tornano zona arancione per almeno due settimane Covid all'ospedale di Urbino la prossima settimana riaprono i reparti Piazzale Cinelli da riqualificare, la Lega lamenta carenze di parcheggio la VL sfida Sassari aspettando di incontrarla in Coppa Italia Una buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV che ci seguite sul canale 633 delle Digitale Terrestre ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale della sera con tutte le principali notizie di Pesaro, della provincia di Pesaro Urbino e della regione Marche ed è proprio alla globalità della nostra regione che si occupa la nostra apertura e infatti di poche ore fa la notizia che si tornerà zona arancione e lo si farà per almeno due settimane lo ha comunicato oggi il ministro della salute Speranza al presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli Di nuovo arancioni dopo nemmeno una settimana di zona gialla ora è ufficiale, le Marche resteranno gialle fino alla mezzanotte di sabato e da domenica torneranno ad essere zona arancione per almeno due settimane ma la terza potrebbe essere già messa in preventivo e quanto ha comunicato il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli poco dopo le 13 attraverso i propri canali social anticipando di qualche ora il DPCM una comunicazione a sua volta recapitata da Acquaroli da parte del ministro della salute Roberto Speranza il governo non vuole rischiare una terza ondata e poco importa se nelle Marche si sia registrato un abbassamento dell'onda di contagi e se l'indice RT è inferiore a 1 attestandosi a 0,97 questo a quanto pare non basta più sono cambiati i parametri, aveva detto ieri con amarezza e disappunto il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli constatando il cambio di carta in tavola del governo che ai contagi ha aggiunto i fattori di rischio come discriminante al cambio di colori fattori di rischio come la pressione sugli ospedali e il potenziale esplosivo dei focolai Che cosa significa tornare a Arancioni? Innanzitutto c'è un'immediata stretta negli spostamenti fra comuni che vengono nuovamente vietati salvo motivi di lavoro, salute o necessità comprovate un limite con deroga ai comuni sotto i 5.000 abitanti che possono spostarsi in un raggio di 30 km ma non per accedere al capoluogo di provincia i spostamenti fra regioni restano vietati almeno fino al 15 febbraio restano consentite le visite a parenti e amici per un massimo di due persone alla volta richiudono bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie di nuovo limitate ai soli servizi da asporto e consegne a domicilio i negozi restano aperti mentre i centri commerciali tornano a chiudere nel weekend ad eccezione dei servizi essenziali come alimentari e farmacie restano aperti parrucchieri e centri estetici continuano a restare chiuse palestre e piscine oltre agli impianti da sci del nostro entroterra i musei invece riapriranno solo in zona gialla e passiamo ora proprio all'approfondimento dell'emergenza sanitaria nel prossimo servizio facciamo il punto sull'andamento della pandemia nella provincia di Pesaro Urbino concentrandoci soprattutto su quello che succede all'ospedale di Urbino con un focolaio che si è sviluppato dalla scorsa settimana nessuna impennata di contagi ma l'andamento incerto basta e avanza a far tornare le marche zona arancione ieri il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati era dell'11% oggi è del 14,6% l'indice dei contagi delle marche resta a RT inferiore a 1 come confermano i dati forniti dal servizio sanitario regionale che comunque costringono a mantenere la guardia alta 571 nuovi casi positivi su 3913 nuove diagnosi per un totale di 6239 tamponi processati Pesaro Urbino paga con 111 contagi fanno peggio Macerata 132 e soprattutto Ancona 175 la zona arancione è un dazio da pagare dovuto soprattutto all'indice di rischio con ospedali sotto stress a cominciare da quello di Urbino che da una settimana ha visto focolai di covid fra medici e infermieri con relativi trasferimenti di pazienti e chiusura di reparti una situazione monitorata dal comune che guarda con cauto ottimismo alla settimana che verrà c'è stato questo focolaio di infezione tra i medici e quindi c'è dovuto chiudere reparti è stato fatto in modo adeguato e accurato e a distanza di una settimana speriamo, come è stato detto dalla direzione dell'ospedale che i primi della prossima settimana riapriranno i reparti che sono stati chiusi i contagiati ricoverati o in transito all'ospedale di Urbino sono ritornati in un numero bassissimo ieri l'altra sera erano 4 su 15 che invece sabato scorso erano e la preoccupazione nostra era quella di non diventare un ospedale covid perché abbiamo bisogno del nostro ospedale di Urbino non per i cittadini di Urbino ma per i cittadini di tutta la provincia che hanno problematiche non covid quindi patologie non covid quindi noi teniamo particolarmente che l'ospedale di Urbino si rimanga libero da covid proprio per questi motivi si chiuderà domani il primo giro di vaccinazioni anti-covid effettuate presso il centro Santo Stefano di Villa Fastigi qui sono stati vaccinati 160 operatori sanitari fra coloro che lavorano nella struttura e quelli impiegati nei centri di Cagli Macerata Feltria e del centro ambulatoriale di Pesaro e c'è curiosità di comprendere come evolverà in queste ore la protesta nazionale Io apro 1501 che vede il ristoratore Umberto Carriera promotore a Pesaro della manifestazione di disobbedienza civile che questa sera prevede di aprire ristoranti al pubblico a cena fino alle 22 contravvenendo alle attuali regole in corso molti ristoratori si sono detti contrari alla partecipazione a questa iniziativa altri incerti su Rossini TV vi daremo aggiornamenti di come evolverà la situazione sono invece 177 i locali della provincia che aderiscono al flash mob di protesta silenziosa indetta da Ristor Italia locali che terranno serrande alzate luce accese dalle 20 alle 22 ma mantenendo il divieto d'accesso ai clienti un imbarazzante scherzo della didattica a distanza ha costretto alle dimissioni un docente dell'Accademia di Belle Arti di Urbino come riporta l'edizione di Oggi del Resto del Carlino un professore durante una lezione online nel mese di dicembre ha fatto partire un video didattico e si è lasciato andare in un rapporto sessuale col proprio partner il professore ha però inavvertitamente lasciato accesa la webcam e l'amplesso è andato in onda sugli schermi di studenti sbigottiti la vicenda è stata riportata subito al direttore dell'Accademia di Belle Arti Luca Cesare che ha convocato il docente il professore ha rassegnato le dimissioni e ha scritto una lettera di scuse agli studenti Monsignor Piero Cocce è stato confermato alla guida dell'Arcidiocesi di Pesaro per tutto l'anno 2021 a comunicarlo lo stesso Papa Francesco attraverso una lettera dell'Annunziatura Apostolica Piazzale Cinelli di fronte all'ospedale San Salvatore si prepara ad un'opera di riqualificazione che non piace alla Lega di Pesaro che teme una deleteria sparizione di posti auto Ci troviamo in Piazzale Cinelli a Pesaro Piazzale che da via del Governatore collega all'ospedale San Salvatore e proprio in questo punto la palazzina che vedete alle mie spalle sarà oggetto di riqualificazione un progetto che è finito ieri sul tavolo della Commissione Consigliare Patrimonio su questo che è l'ex edificio dell'Edazio che il Comune cedette a soggetto privato ora su questa zona sorgeranno appartamenti si creerà una piazzetta ci sarà un rifacimento di pista ciclabile con un nuovo tratto e anche una nuova illuminazione tante però le perplessità dalla Lega di Pesaro Urbino questo fabbricato è il fabbricato ex Dazio è stato oggetto di permuta da parte del Comune nei confronti di un privato che l'ha visto cedere questo fabbricato in cambio di un edificio a Trebbia Antico da ultimare e per ora inutilizzato e anche in cambio di 140.000 euro oggi perché ci troviamo qui? perché ieri in Commissione hanno portato la sdemagnalizzazione di 60 metri quadri di parcheggi pubblici in cambio di 120.000 euro e di opere di sistemazione di questa piazzetta da parte del privato allora noi contestiamo totalmente questa operazione perché a nostro parere togliere dai 5 ai 10 posti auto 5 sono qui poi 2 là e 4 di là per la ciclabile per in cambio di non si sa cosa perché alla fine il Comune non ottiene nulla noi non siamo d'accordo quindi siamo qui a contestare questa scelta e in Commissione ieri ci siamo opposti a questa procedura il disagio principale in questa zona può essere proprio quello della mancanza di parcheggi che si verrà a creare almeno 5 ne spariranno ma secondo i consiglieri della Lega potrebbero esserne sottratti ancora di più forte disagio per i cittadini pesaresi secondo me è una scelta inopportuna togliere 10-11 parcheggi per realizzare una piazzetta una piazzetta che a poco servirà cosa servirà? per spostare il bivacco da davanti all'ospedale a davanti a questo edificio noi cosa chiediamo? chiediamo di valutare altre opzioni e il realizzo di altri parcheggi per uso cittadino restiamo fra gli aderenti al partito di Matteo Salvini ma ci spostiamo a Fano perché il consigliere regionale Luca Serfilippi rilancia la proposta della Lega Fano della realizzazione del casello autostradale a Fenile come gruppo consigliare della Lega di Fano abbiamo chiesto tramite una mozione di riaprire tutto il fascicolo del casello di Fenile riteniamo fondamentale e importante da parte dell'amministrazione riaprire la conferenza di servizi perché il casello di Fenile rappresenta sicuramente uno snodo importante per alleggerire la statale adriatica 16 e per collegare meglio le due città di Fano e di Pesaro e non solo anche tutto il resto dell'entroterra di Pesaro e di Fano snellerebbe quindi il traffico è un'opera importante strategica per il nostro territorio regione, provincia e anche gli stessi comuni sono sempre dimostrati favorevoli al progetto dobbiamo riaprire il fascicolo cercare se ce lo chiederanno gli enti preposti come il Ministero dell'Ambiente e la sovrintendenza di ridurre l'impatto del casello eventualmente in seconda ipotesi valutare anche l'istanza del casellino ma non possiamo più perdere altro tempo e bisogna riaprire tutta la pratica ed ora vediamo un approfondimento su chi si batte quotidianamente per il rispetto degli animali come l'empa di Pesaro che in questa pandemia ha dovuto rinunciare a un cardine della propria azione ovvero l'educazione nelle scuole è la cosa che ci manca di più ci è mancata di più ed è anche una delle attività diciamo base, colonna dell'empa che riteniamo fosse una delle più importanti e ci manca molto veramente l'attività nella scuola consisteva nell'invito da parte dei ragazzi o da parte degli insegnanti a venire ad illustrare non tanto l'associazione quanto piuttosto il mondo degli animali che è attorno all'associazione e questo noi l'abbiamo fatto molto volentieri ottenendo veramente un immaginabile successo di silenzio di attenzione e questo ci ha commosso e ha stupito anche alcuni insegnanti per esempio il lavoro era prevalentemente rivolto con le terze e le quarte degli istituti superiori a cui proponevamo poi uno stage questo stage era di 6-9 ore pomeridiano ovviamente quindi extrascolastico e serviva ad approfondire l'argomento quindi diviso in due o tre pomeriggi il primo pomeriggio consisteva nell'andare a vedere che cosa fa Pesaro per il randagismo e quindi portargli a vedere il canile sanitario il gattile sanitario e il cimitero degli animali d'affezione che sono tutti insieme su una collina come sai verso Santa Veneranda e la seconda parte invece il secondo pomeriggio li portavamo al CRAS Centro Recupero Animali Selvatici per andare praticamente a vedere che cosa fa la provincia per i selvatici io ho una fiducia straordinaria nelle nuove generazioni che sono estremamente maltrattate così nell'opinione generale è il bullismo è questo e quel lato sì ci sono anche queste queste chiamiamole deviazioni ma la base è forte basta solo come dire smuoverla portarli a loro quelle che sono le problematiche oppure quelle che sono i successi che si possono ottenere con un certo tipo di comportamento con un certo tipo di mentalità formare le mentalità di ragazzini di 16 17 18 anni per me è fondamentale passiamo ora allo sport perché quella di domenica sarà la prima giornata di ritorno del campionato di basket di serie A che vedrà la VL in trasferta in Sardegna a Sassari Sassari con cui persi al debutto e che ritroverà tra l'altro tra un mese nei quarti di Coppa Italia proprio coach Yasmin Reppe già intervenuto in conferenza pregara questa mattina dove era presente il nostro Marco Cadeddu ve ne proponiamo un estratto in cui l'allenatore Biancorosso enfatizza il risultato delle Final 8 e poi si concentra sul prossimo avversario quando ci qualifichiamo in Final 8 dopo 8 7 8 9 anni non lo so sicuro è un risultato importante dopo un anno non buono come è stato l'anno scorso ma dicendo la verità ho detto che onestamente mi manca al minimo una vittoria avversario più conosciuto diciamo così più conosciuto già tre partite fatte tra tra noi e è sicuro che ci conosciamo bene sappiamo come Sassari gioca che sono la squadra con più punti segnati nel campionato che gioca con grande intensità 40 minuti una squadra che ha gioco molto interno perché ci sono giocatori come Barnell come Benjius e prima di tutto Billan che con spalla e canestro possono creare vantaggio la separazione nello stesso tempo hanno grandissimi trattori piedi per terra come Kruslin come Benjius da punto di vista tattico ci aspetta veramente un grandissimo impegno un grandissimo lavoro non solo fisico mentale uguale perché mantenere attenzione contro una squadra che gioca con intensità altissima 40 minuti sui giù mantenere attenzione 40 minuti è una cosa fondamentale a completamento del servizio che avete appena visto vi aggiungiamo che la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro poco prima delle 18 ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui rende noto che c'è stato un caso di positività al Covid-19 durante l'ultimo giro dei tamponi caso che coinvolge un componente del gruppo squadra del quale non è stata rivelata l'identità il team come da protocollo in corso nella mattinata di domani prima dell'allenamento e della partenza per Sassari si sottoporà dunque al tampone rapido per capire i risvolti di questo episodio e con lo sport si conclude questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo però la nostra prima serata alle 21.15 spazio a due cortometraggi forniti dal Fedic Cineo Videoclub Pesaro si tratta del film ricordi lettere d'amore di Sonia e Giorgio Bertuccioli e la breve stagione un film di Agostino Vincenzi L'informazione su Rossini TV però vi dà appuntamento puntuale domattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa del sabato Buongiorno Rossini come vedete in grafica condotta da Antonio Astuti e non perdetevi l'appuntamento sportivo col calcio a 5 sugli schermi di Rossini TV in diretta la partita dell'Ital Service dei sedicesimi di Champions League a Parigi contro i campioni del ACCS Futsal dunque un appuntamento da non perdere per tutti gli amici sportivi tifosi dell'Ital Service Ed è davvero tutto per questa nostra edizione di Rossini News da tutta la redazione il più cordiale saluto un buon weekend e vi lasciamo ora a una buona continuazione con i programmi di Rossini TV di Rossini TV